La tribuna, i gruppi Ultras, magari andando un po' più indietro così evitiamo problemi, i gruppi Ultras che entrano verso la tribuna perché ricordiamo che alcuni gruppi avranno l'accesso in tribuna centrale per la prima volta nella storia, sicuramente nella storia di Laurentiis, mentre qui c'è un bel pulcinella che risponde ai tifosi del Milan, vai vicino a Peppe, sta succedendo di tutto. La risposta, la risposta di Napoli, va addirittura del 40, vai. Ah ecco, capito l'uso. Direi che possiamo anche allontanare. Attenzione. Vieni qua e inquad...